di che cosa vuol dire lo staff lo staff tecnico in generale lo staff di una società e fra gli esempi ce ne sono tanti ne ho voluto andare troppo nella letteratura per forza perché questo è un corso che vuole essere pratico però andando a vedere degli esempi visivi per esempio ho trovato un esempio in particolare per una società di calcio qualcuno di voi fa parte della federazione gioco calcio e vedete qui c'è un allenatore che fa il coordinatore ma questo può essere valido anche alcune di queste cose cambiando qualche ruolo valgono anche per altri sport ci può essere un allenatore in seconda un collaboratore tecnico un match analyst questo per esempio è una figura importante nel calcio come nel basket ci sono in tanti sport in cui c'è colui che raccoglie proprio i dati raccoglie i dati sia delle prestazioni sia i dati fisiologici e questo diventa un elemento molto importante le tattiche la resistenza qualunque sia lo sport match analyst oppure analista proprio diciamo fisiologico biomeccanico e informatico diventa un ruolo molto importante allenatore dei portieri qui si parla di calcio in particolare e il preparatore atletico che a sua volta coordina il lavoro di diverse figure quello che dà i carichi di lavoro quello che fa recuperare dopo un infortunio e così via questo è uno staff tecnico ma giustamente si può dire che lo staff si deve allargare e qui ho trovato un articolo che qui ho in inglese che però era interessante ve lo consiglio lo potete trovare qui ci sono i riferimenti in cui lo schema che introduce qui non so perché no non è venuta la figura per qualche motivo aspettate si vede questa la faccio vedere così un attimo ecco l'ho messo in piccolo perché per qualche motivo non viene poi dopo ingrandiamo di nuovo qui si vede come a destra c'è il cosiddetto performance coaching quindi il capo allenatore e tutti coloro che lavorano sulla proprio sull'aspetto tecnico ma qui è valorizzato quello che è la gestione sanitaria quindi vedete health management e quindi vengono citati lo vediamo rapidamente giusto per avere un'idea di come possiamo dare una dignità significativa a una serie di figure che possono essere il capo medico il responsabile medico sanitario però poi ci possono essere fisioterapista osteopata chiropratico nutrizionista psicologo biomeccanico podologo vedete una serie di figure che tutte quante fanno parte del settore chiamiamolo sanitario in senso lato ecco forse nemmeno è giusto chiamarlo sanitario ma di consulenza sugli aspetti fisiologici sanitari psicologici e così via e che entrano in relazione in un insieme dinamico con la parte tecnica vera e propria poi si potrebbe dire che lo staff tecnico in realtà interagisce con lo staff manageriale perché i dirigenti il presidente il vicepresidente il consiglio di una società sportiva di un circolo sportivo è anche quello a sua volta è uno staff manageriale che in alcuni casi interagisce proprio nella programmazione con lo staff tecnico altro esempio qui riparto dalla diapositiva l'ho preso invece ora vabbè viene via l'ho preso da un circolo del tennis e questo è un circolo della stampa di Torino un circolo piuttosto grosso ho trovato un organigramma su internet interessante perché distingue tre quadri addirittura un primo quadro che è quello tecnico vedete c'è il direttore tecnico poi responsabile organizzativo consulente tecnico poi ci sono i vari responsabili scuola base scuola avanzata gruppo tecnico under 14 over 14 e così via qui sono proprio gli allenatori e gli istruttori e tutti quelli che riguardano il settore tecnico poi però c'è l'area della preparazione fisica anche qui c'è un responsabile dell'area di preparazione fisica che essendo un circolo piuttosto grosso a sua volta coordina altri diversi altri specialisti vedete che si occupano mini tennis under 14 over 14 settore pro settore più avanzato di agonisti di alto livello ma non basta c'è il settore dei consulenti sono chiamati consulenti esterni ma dobbiamo anche con loro bisogna anche con loro sviluppare lavoro non a tempo pieno lavoro non a tempo più limitato ma hanno un significativo intervento per esempio per l'aspetto della preparazione mentale dell'educazione alimentare o nutrizione l'area medica e gli sponsor tecnici che in questo caso naturalmente come in altri sport ci sono i tecnici proprio delle attrezzature la bicicletta piuttosto che l'arco piuttosto che i costumi del nuoto e così via si parla anche di questo aspetto e quindi vedete come diventa un sistema ampio complesso con diversi gradi di coinvolgimento e di partecipazione ma fra tutti questi componenti di questo macrosistema dobbiamo creare la collaborazione la cooperazione altrimenti c'è il rischio dell'individualismo e vedete come Colangelo Fabio direttore tecnico probabilmente coordinatore generale di tutto questo sistema ha un grande lavoro come qualcuno di voi che ha citato di essere il coordinatore c'ha magari la società più piccola in alcuni casi ma comunque c'è un ruolo molto significativo di coordinamento da parte dell'allenatore e di funzionamento integrato di tutto questo sistema ho voluto rappresentare questo concetto dei sistemi nelle prossime slide ecco possiamo concepire forse anche questo visivamente si può facilmente intuire ed è utile credo possiamo concepire al centro come nucleo centrale promozionale di tutta la società da un lato si potrebbe dire dirigenti ma dall'altro possiamo ritenere che lo staff tecnico quindi il vostro ruolo oggi voi state ragionando rispetto al vostro ruolo nello staff tecnico il vostro è un ruolo centrale è un ruolo da cui si irradia il funzionamento della società sportiva e in primo luogo per esempio si irradia nella gestione della squadra se c'è uno sport di squadra o comunque di un gruppo di atleti o di vari gruppi di atleti abbiamo visto anche negli organigrammi precedenti che magari c'è il gruppo di atleti ragazzi bambini poi gli under poi gli adolescenti poi gli over poi gli over 65 ci possono essere gruppi di atleti diversi anche sport individuali o squadre diverse che vengono comunque gestite dallo staff tecnico e voi direte ogni squadra ha la sua dinamica è vero ogni squadra ogni sottogruppo è un piccolo sistema è vero però il tutto dovrebbe avere anche una visione di insieme noi dovremmo anche saper creare come membri dello staff tecnico una capacità di creare un senso di appartenenza a una visione collettiva anche in una società grossa il che non è per niente facile cosa c'è oltre alla squadra oltre al gruppo di atleti ci sono naturalmente tutto il gruppo dei dirigenti ci sono i dipendenti della società i volontari se ci sono volontari i soci quelli iscritti quelli che vengono e frequentano la società il circolo anche non magari non allenandosi in modo sistematico ma soltanto per praticare quello sport o comunque per frequentare quell'ambiente ci sono i genitori che sono un sotto insieme importantissimo con i quali riuscire a colloquiare a creare una dinamica costruttiva e chi ci collabora chi ci parla qualcuno dello staff tecnico o tutti oppure con delle incontri ecco questo è un tema che noi come a scuola dello sport proponiamo anche di trattare abbiamo previsto addirittura in luglio poi lo potrete trovare un seminario dedicato proprio al rapporto con i genitori che diventa un elemento di comunicazione molto importante e in realtà la comunicazione non si ferma nemmeno qui fuori dalla società sportiva c'è tutto quello che c'è intorno e quindi voglio dire le altre società gli enti locali gruppi che ne so di associazionismo di altro tipo all'interno del proprio quartiere o del proprio paese della propria zona poi ci sono la federazione sportiva a livello regionale o nazionale ci sono le scuole con cui spesso le interazioni sono molto ricche e vedete quindi c'è una necessità di creare anche delle collaborazioni sistematiche anche con diverse parti del mondo esterno i fornitori i sponsor ci sono chi si occupa di marketing per esempio potrebbe essere anche una persona che collabora con lo staff tecnico o in generale con la società sportiva chi si occupa della gestione dei social anche queste sono cose molto importanti allora qual è il concetto il concetto che io voglio sottolineare è che più lo staff tecnico riesce a cooperare più crea un team building cioè una costruzione della scuvata una costruzione di un buon gruppo in tutta la società sportiva intesa come un sistema aperto aperto al mondo esterno non è chiuso dentro un bunker o dentro una palestra sempre chiusa ha interazioni con tante altre realtà fuori e però è un sistema complesso perché è fatto diversi sotto insieme lo staff tecnico è un sotto insieme ma addirittura all'interno ci può avere ulteriori sotto insieme sotto sotto insieme e allora voi direte qui rischiamo di perderci no non ci perdiamo perché ora proviamo a condividere alcune linee di descrizione e di osservazione di che cosa vuol dire fare gruppo nello staff tecnico ma anche fuori dallo staff tecnico ma per continuare ad inquadrare questa visione sistemica innanzitutto sottolineiamo questo aspetto noi dobbiamo concepire il gruppo cioè lo staff tecnico ma tutti i gruppi come un sistema globale che è aperto lo staff tecnico è aperto alle altre realtà la società sportiva è aperta al territorio o alla nazione o addirittura agli eventi internazionali ed è in continua evoluzione quindi noi dobbiamo vedere innanzitutto e noi partiremo proprio ora prima dell'intervallo a guardare proprio le variabili di gruppo quindi le variabili globali ora sottolineerò che cosa intendo per globali perché è un punto molto importante da recepire ma naturalmente dobbiamo anche guardare come avvengono le comunicazioni con quale stile con quale atteggiamento con quale modalità perché un conto è comunicare in modo aggressivo prepotente conflittuale un conto è essere costruttivi sereni equilibrati e questo anche è una cosa che va costruita ed è un presupposto fondamentale del buon funzionamento del buon team building della buona cooperazione in uno staff tech ma poi non è soltanto una qualità più informale come è lo stile di comunicazione ma è di utilizzare al momento intero al momento opportuno degli strumenti di comunicazione strutturati ecco spesso viene un po' a volte viene un po' sottovalutato cioè si dice va bene ma noi ci vediamo tutti i giorni ci troviamo sul campo benissimo questo permette la comunicazione informale quotidiana fondamentale però soprattutto se la società ha una certa grandezza se le persone non stanno sempre tutti insieme dobbiamo trovare dei momenti in cui programmare e organizzare delle riunioni oppure dobbiamo utilizzare le mail oppure dobbiamo utilizzare dei social qui intendo altri media dobbiamo poter comunicare all'interno in un modo anche pianificato strutturato ragionevole costruttivo e utilizzare anche dei media per comunicare all'esterno qualunque società vuole anche sempre fare promozione dare visibilità alle proprie iniziative creare una buona reputazione quindi c'è bisogno di cavalcare sempre tutti quanti gli strumenti della comunicazione e in primo luogo dentro lo staff tecnico per esempio programmare con una certa periodicità delle riunioni con un certo grado di strutturazione lo so che su questo nel mondo sportivo qualcuno si ribella dice ma noi non siamo un'azienda non vogliamo creare delle cose troppo rigide è vero dobbiamo far convivere l'informalità la passione il pionierismo la voglia di divertirsi che indubbiamente è una motivazione a fare sport e anche a organizzare lo sport con quello che è un po' di strutturazione per la produttività e per la soddisfazione di tutti andiamo a questo punto a definire il gruppo come sistema globale portiamo proprio da questa prima dimensione del gruppo come sistema globale e possiamo dire che lo staff multiprofessionale è un gruppo di lavoro è una squadra ma queste definizioni valgono anche per altri gruppi e per altre squadre possiamo dire che una prima definizione potrebbe essere più individui che interagiscono fra loro creano gruppo ma non basta questo perché si crei un gruppo anche dal punto di vista psicologico e sostanziale bisogna che i singoli individui che fanno parte di quella squadra di quello staff siano consapevoli che loro non è un'attività individuale che può dare dei risultati significativi se viene condotta solo in modo prevalentemente in modo individuale ma che ci sono obiettivi comuni collettivi importanti per i quali va creata una interdipendenza ecco questa non è non è scontata questa interdipendenza va creata con impegno con capacità con attenzione se questo si crea naturalmente si possono arrivare a dei grandi risultati qui ho messo un paio di fotografie non di staff ma di squadre sportive naturalmente poi parleremo di staff però la metafora delle squadre sportive è importante per esempio la staffetta 4% che ha vinto il medaglia d'oro agli ultimi olimpiadi nell'atletica leggera è un esempio di come naturalmente c'erano grandi personalità che magari non sempre vanno d'accordo fra loro sono anche in competizione ma in quel momento sicuramente negli allenamenti e nel passaggio nella scelta della posizione in cui gareggiare nel passaggio del testimone hanno creato l'interdipendenza non hanno fatto solo il gioco individuale quindi la capacità di fare gruppo o la capacità per esempio nella ginnastica ritmica o nella danza artistica di creare una sintonia una sinergia proprio fra gli atleti che gareggiano insieme o che addirittura creano delle coreografie insieme il leader sentivo ci sono tanti sport il nuoto sincronizzato eccetera in cui c'è necessità di questa sintonia ma questo metaforicamente vale anche per uno staff multiprofessionale che non deve fare queste coreografie però deve riuscire a far andare d'accordo figure che magari ognuna delle quali vorrebbe lavorare più semplicemente per conto suo e allora andiamo a capire che cos'è questo gruppo come sistema aperto è un sistema che si fonda sulla globalità cioè noi riusciamo a creare un reale gruppo se moltiplichiamo le risorse individuali attraverso la sinergia fra tutti e a quel punto le somme delle singole parti qui ho messo per far capire uno più uno più uno può essere diciamo diverso o noi spesso pensiamo maggiore della somma delle parti può essere anche meno nel senso che se un gruppo frammentato è un gruppo conflittuale in realtà viene fuori qualcosa che è meno di quello che farebbero le singole persone sommate se invece le singole persone riescono ad armonizzarsi fra loro a entrare in relazione a creare l'interdipendenza si crea questo che possiamo chiamare globalità il totale è diverso e spesso maggiore dalla somma delle parti questo è il punto importantissimo e naturalmente questo sì è vero se riusciamo a creare la interdipendenza che cos'è la interdipendenza la capacità di di dipendere dagli altri ma non nel senso passivo cioè è la è la capacità di sviluppare la propria iniziativa individuale e sintonizzarsi essere complementari con gli altri quindi creare l'interdisciplinarità l'interprofessionalità l'interpersonalità e naturalmente si parla di sistema aperto quindi dobbiamo mantenere uno scambio con l'esterno dobbiamo chiuderci come società collaborare con altri sport con altre società con altri enti con la scuola con il comune con la federazione con sport e salute con il coni con tutti gli enti che esistono magari anche fuori dallo sport con grande apertura quindi creare globalità creare interdipendenza creare uno scambio con l'esterno a quel punto si valorizza proprio il gruppo come sistema aperto pur nella gestione in un'organizzazione complessa abbiamo visto prima l'esempio del circolo della stampa di Torino è un gruppo complesso in cui già soltanto nello staff tecnico ci sono tante figure divise in sistemi e sottosistemi consulenti esterni area fisica area tecnica area medica e così via ma cosa vuol dire globalità e sistema aperto la terra noi lo vediamo nell'ecologia qui ho voluto far vedere un esempio diciamo che ci fa capire che la terra detta no Gaia il pianeta del verde dell'acqua ma bisogno che noi tutti tuteliamo gli alberi l'acqua il clima altrimenti i danni poi magari non subito ma arrivano a tutti quindi riuscire a come dire governare la globalità della terra è lo stessa ha una complessità ovviamente maggiore ma nel piccolo governare la complessità del nostro gruppo società sportiva del nostro piccolo gruppo relativamente alla società chiamavano staff professionale è questo l'aspetto ecologico e globale vedo forte che ha alzato la mano se non sbaglio se vuoi dire qualcosa vai pure sì scusa se ti interrompo volevo chiederti se potevi ridarmi una definizione di interdipendenza l'interdipendenza sì grazie Claudio interdipendenza si intende la capacità di mantenere di non creare il conformismo cioè di schiacciare per uno spirito collettivo l'individualità di mantenere l'iniziativa individuale al tempo stesso valorizzando la complementarietà e l'integrazione fra le varie componenti per esempio facciamo l'esempio di una squadra sportiva io gioco a pallavolo gioco a basket ho bisogno di ruoli individuali che devono affermarsi al meglio ma che devono interagire con gli altri ruoli quindi io percepisco che non devo soltanto perseguire il mio obiettivo personale ma devo collegarmi con gli altri per ottenere un prodotto collettivo per esempio faccio una riunione divido i vari ruoli articolo le varie interventi suddivido opportunamente in modo di essere soddisfatto io come persona ma di produrre qualcosa che deriva da questa interdipendenza cioè da questa dipendenza fra tutti costruttiva e creativa va bene Claudio? grazie ok è un obiettivo se vogliamo che vale nei gruppi non so anche in una coppia la coppia o una famiglia ma parliamo anche semplicemente di una coppia fra due persone funziona bene da soddisfazione se le persone sentono che traggono profitto gioia piacere dall'essere insieme vivono qualcosa di più bello essendo insieme ma ognuno dei due non è schiacciato dall'altro non subisce passivamente l'altro ma ha anche la propria personalità vedete come è una cosa che va anche creata giorno per giorno non è banale non è facile per questo il gruppo anche ha dei cicli per cui arriviamo magari all'interdipendenza poi la dobbiamo ricreare rispetto a nuove fasi di vita nuovi obiettivi nuova età nuovi partecipanti parlando di gruppo andiamo ancora al gruppo come sistema globale io vado avanti ancora per alcune altre slide e poi ho pensato a un piccolo break per prenderci un caffè fare stretching e ripartire poi successivamente per l'esercitazione va bene poi se c'è qualche domanda anche là come abbiamo fatto ora con Claudio volentieri ho qualche osservazione allora il gruppo come sistema globale questa è un primo parte del metodo di osservazione che vi propongo perché l'ho strutturato sulla base di tanti studi di psicologia sociale dei gruppi in questo modo ho diviso cinque grosse aree che poi nelle prossime slide vado a descrivere tutte quante la prima area questa non la vado a descrivere perché si intuisce facilmente e se no poi ci perderemmo in un'ulteriore materia che è quella delle personalità individuali però noi dobbiamo per descrivere un gruppo uno staff in questo caso ma anche una squadra qualunque gruppo noi dobbiamo in primo luogo descrivere da quante persone è fatta la composizione e se vogliamo anche gli aspetti anagrafici che età hanno che sesso che provenienza e quindi anche che competenze cosa sanno fare perché sono lì e le personalità individuali qui diventa un fatto anche più diciamo meno definito meno preciso ma che dobbiamo in qualche modo conoscere per vedere poi questa varietà di persone come si può comporre in un tutto collettivo quindi questo è l'aspetto diciamo della forma complessiva del gruppo che naturalmente è molto importante e fra l'altro anche come numerosità noi vogliamo siamo uno staff tecnico di una grande società e dobbiamo avere anche tanti professionisti se ne abbiamo troppo pochi non ce la facciamo oppure se la società ha pochi soci ha pochi atleti è piccola ha poche strutture dobbiamo avere uno staff tecnico anche come numerosità più piccolo le competenze quali competenze sono importanti con quanto tempo devono poter lavorare all'interno della nostra società questo è un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente studiare poi le altre aree sono quelle più globali in senso stretto perché riguardano la struttura e poi questa la vedremo nelle altre slide l'area del compito l'area della relazione e poi lo studio delle fasi di sviluppo qual è la diversità tra queste cinque aree mentre le prime quattro la forma chiamiamo la composizione la struttura il compito la relazione noi possiamo fare una fotografia in un certo momento di quel gruppo di quello staff le fasi di sviluppo è la storia nel tempo e poi possiamo dire in questo momento il gruppo è in questa fase di sviluppo andiamo a vedere il dettaglio e ho proposto un paio di foto per far vedere anche come si presentano per esempio in un esempio i vari professionisti tecnici vedete coach assistente allenatore responsabile femminile e così via oppure per esempio questa era una fotografia di uno staff vedete come anche le fotografie cercano di far vedere siamo sorridenti collaboriamo siamo un bel gruppo e quindi volevo dire anche il modo in cui ci si rappresenta in cui si sente appartenenti a un certo gruppo questo è molto importante quindi presentarsi anche all'esterno e sentirsi all'interno gratificati di questa appartenenza andiamo a vedere la struttura che è un primo punto naturalmente importante ecco la struttura l'ho definita anche organizzazione dei ruoli e delle responsabilità la prima cosa e noi dobbiamo sconoscere quali sono anche ancora prima dei ruoli che vuol dire mi occupo di questo di quest'altro mi occupo di aspetto fisico di aspetto tecnico di aspetto psicologico e così via lo status cioè c'è un capo allenatore un coordinatore un responsabile tecnico questo vuol dire che c'è una figura per esempio in genere c'è che ha uno status maggiore delle altre figure poi dobbiamo chiarire bene quali sono i compiti di cosa si occupano soprattutto se le persone sono tante dobbiamo creare anche qualcosa di scritto qualcosa di definito in cui si sappia qual è la responsabilità il che non vuol dire essere rigidi l'agilità non porta a nulla ma nemmeno la confusione o lo sgomitare per prendersi un certo ruolo quindi chiarezza che va creata fin dall'inizio da parte già dei dirigenti naturalmente che scelgono oppure da parte delle prime persone che a livello storico hanno creato lo staff tecnico a partire dal possibile coordinatore dello staff tecnico quindi che devono allargando la numerosità e la composizione chiarire bene le cose naturalmente è utile che ci sia una leadership istituzionale appunto una figura di capo di coordinatore e così via ma anche altre leadership spontanee qualcuno che c'ha tempo che c'ha voglia che c'ha capacità magari su alcuni elementi alcuni aspetti può avere una certa leadership diciamo informale e comunque ci possono essere delle funzioni di coordinamento su aspetti specifici che non vuol dire essere leader in senso strutturato ma è un ruolo che può essere importante o di referenti che ne so per i rapporti con i genitori per i rapporti con il comune per i rapporti con le scuole anche per esempio con i rapporti con i social quindi anche con cose che riguardano anche la comunicazione esterna e in generale io suggerisco non molti lo fanno però di abbozzare di visualizzare di disegnare anche a mano oppure ci sono dei programmi molto semplici che ci aiutano degli organi grandi proprio per avere per questo l'ho presentati prima degli esempi di organi grandi per avere proprio visivamente la situazione dei ruoli e chiarirla magari anche all'esterno per l'intervento di un'intervento di esterno naturalmente è una cosa un po' impegnativa che va fatta e va aggiornata quando cambiano le persone o quando cambiano le cose quindi non è che si può lasciare lì da una parte ecco il motivo per cui a volte viene un po' rimandato però averlo un organigramma scritto è secondo me sempre utile anche in un piccolo gruppo anche quando è banale scriviamolo definiamo per scritto un po' i compiti le mansioni le responsabilità brevemente certo tante cose si intuiscono ma a volte ci sono degli equivoci che possono portare dei conflitti io voglio prevenire qualunque fonte di conflitto di confusione di improduttività di perdita di produttività poi c'è la cosiddetta area del compito area del compito io qui ho fatto una figura anche area di come pianificare le attività organizzare i tempi organizzare i corsi le lezioni le gare questo fa parte dell'area del compito ma più in generale ci sono gli obiettivi che ci si dà per la stagione per il trimestre per il mese per il futuro i tempi e i metodi con cui lavoriamo con cui ci organizziamo le regole questo è un altro punto importantissimo che io ho messo nel compito ma è di supporto a tutto il funzionamento del gruppo quindi le regole interne allo staff o che lo staff propone per la società sportiva per le squadre far seguire con coerenza e con chiarezza le regole è un punto fondamentale per far funzionare bene il gruppo quindi se non ci sono regole scritte scriviamole se le norme sono confuse chiariamole se alcuni non le conoscono parliamo vale all'interno fra i professionisti e vale all'esterno perché alcune regole valgono invece per la società sportiva le decisioni come vengono prese le decisioni qual è il metodo decisionale decide sempre il capo va bene però sarebbe una modalità un po' troppo militaresca alcune decisioni vanno alternate e discusse insieme o addirittura come dire venire fuori da un consenso però come articolare questo processo decisionale è un punto che va valutato gruppo per gruppo e fase di sviluppo per fase di sviluppo altra cosa noi dobbiamo puntare i risultati quindi dobbiamo sapere quali sono i risultati attesi e poterli verificare periodo per periodo questo è quello che riguarda l'area del compito della produttività altrettanto importante tanto più che parliamo di un'attività piacevole che deve essere piacevole che deve creare un buon clima è l'area della relazione interpersonale che comprende fondamentalmente tre variabili che sono il clima la coesione la collaborazione cos'è il clima? il clima è proprio la percezione che ci sia serenità distensione stimolo piacere di stare insieme all'interno di un gruppo e di una società e di uno staff sportivo quindi un clima che deve essere caldo partecipativo attento vedete noi possiamo usare soprattutto dei termini degli aggettivi non è facile misurarlo il clima però se noi andiamo e osserviamo due tre società o chiediamo ai componenti dello staff tecnico tu come ti trovi cosa percepisci in questo gruppo verranno fuori gli aggettivi che possono essere più o meno positivi o medi o addirittura negativi questo vuol dire un clima che può essere diverso e su cui possiamo lavorare però io dico queste cose per analizzare e poi per capire cosa fare come lavoro la coesione quindi il senso del noi lo spirito di squadra a volte si dice lo spirito di spogliatoio lo spirito di gruppo la sensazione di essere un tutto che naturalmente non è scontata va creata e la collaborazione vuol dire la capacità anche di riuscire a superare anche divergenze dubbi conflitti per arrivare a delle decisioni anche qui ho messo una foto in cui si vede secondo me il clima sono sorridente queste ragazze un po' sono componenti dello staff un po' sono giocatrici vedete ridono parlano si vogliono dei momenti in cui lo scambio interpersonale nello staff o nella squadra sia qualcosa di piacevole qualcosa in cui noi troviamo soddisfazione alcuni esempi di come si può definire il clima nella prossima slide ecco io l'ho definito il vissuto emotivo del gruppo e noi possiamo vedere se c'è un sostegno fra le persone se c'è un certo calore un certo riconoscimento e stima si potrebbe dire una certa fiducia interpersonale un'apertura una capacità di darsi dei feedback una soddisfazione voi avete parlato di aumentare la motivazione io qui non l'ho citato come caratteristica globale perché è più individuale però tante motivazioni individuali se espresse bene nel gruppo in modo appunto interdipendente creano poi una soddisfazione collettiva quindi creano un clima di motivazione e di gratificazione e ancora sto per concludere questa parte la coesione da alcuni autori viene descritta abbastanza intuitivo la tendenza di un gruppo a rimanere unito a perseguire la soddisfazione dei bisogni quindi a creare appunto un noi ma è un processo dinamico bisogna sempre lavorarci per governare ancora una volta sia l'aspetto del compito come il gruppo come lo staff opera in sinergia in modo intenzionale come riesce a organizzarsi vedete metodi tempi riunioni ruoli come riesce a coordinarsi e dall'altra parte come è l'aspetto più sociale senza che non vuol dire per forza diventiamo amici in tutti i membri dello staff ma in quel rispetto a quegli obiettivi a quei compiti quanto riusciamo a comunicare in modo aperto piacevole costruttivo a collaborare e comunque magari anche con la presenza di qualche conflitto sentiamo di avere un senso di appartenenza uno spirito di squadra quindi vedete la coesione anche questa è un senso del noi che però è legato anche al compito e all'aspetto sociale e crea poi ne parliamo perché crea un circolo virtuoso circolo virtuoso vuol dire più c'è coesione più questo aiuta l'impegno o viceversa e questo aiuta il successo la produttività il successo vuol dire vincere sempre nello sport non si vince sempre ma la soddisfazione di sviluppare le proprie competenze e qui ancora una volta ci possono essere delle immagini che ci fanno capire come tutti con il sorriso con la disponibilità ma anche con la capacità di gestire i conflitti ci sono conflitti ci sono invidia ci sono difficoltà non possiamo nasconderci come riusciamo però nonostante questo gestendo questo ad arrivare a un ottimo risultato se ce la fate vado ancora con tre slide o interrompo c'è qualche domanda qualche chiarimento forse però avevo detto l'undici e mezza l'abbiamo superata io farei un'interruzione prima di fare il break il coffee break sentiamo se c'è qualche osservazione qualche domanda io tolgo la condivisione però poi se volete ci ritorniamo e vado a primo verificiamo se siete sopravvissuti ancora sembrate vigili però è bene fare un'interruzione per tutti noi una domanda un'osservazione dobbiamo ancora dire le fasi di sviluppo però le quattro diciamo aree principali globali sono appunto la composizione quindi la descrizione delle competenze della numerosità delle tipologie di persone e anche di personalità che hanno e questo lo affidiamo un po' a voi nell'esercizio ma poi e potrebbe essere argomento di un altro seminario quindi non l'ho approfondito qui però poi ci sono tre le altre aree molto importanti la struttura dei ruoli delle responsabilità tutto quello che è l'area globale del compito quindi non quello che fa il singolo ma come si organizza come gruppo e come si sta insieme a collaborare a sentire il senso del noi a trovare un buon clima interpersonale e tutto questo è uno strumento per favorire la globalità e quindi la positività la soddisfazione del gruppo faccio io una consultazione vai volevo volevo sintetizzare proprio tutto quanto hai detto con quel grafico che hai espresso in modo concentrico quando hai messo lo staff tecnico al centro già quello è un concetto secondo me importantissimo perché già la definizione di un diagramma o di un si chiama dendrogramma dove si vedono le varie funzioni invece già il concetto concentrico vuol dire collaborazione e questo mi sembra che hai proprio il focus dell'argomento dovrebbe proprio essere quello grazie Guido ottimo grazie di averlo sottolineato molto bene qualche altra sintesi opinione dubbio interpello io qualcuno che vedo davanti a me ci provo io a fare una considerazione ma non vorrei spoilerare sicuramente spoilererò poi qualcosa che ve l'ha detto successivamente cioè quanto nell'ambito di uno staff cotano le differenze anagrafiche le differenze di genere quanto magari in un ambiente prevalentemente maschile una presenza femminile che comunque è sempre un arricchimento come una persona di maggiore esperienza eccetera ecco come come può essere meglio valorizzata meglio gestita a livello di comunicazione insomma soprattutto di comunicazione di linguaggio eccetera sì hai detto bene diciamo poi dopo cercherò di dare delle indicazioni che poi valgono un po' anche più in generale per riuscire a gestire la varietà per rispondere in modo intuitivo sicuramente l'eterogeneità di età e di sessi è una grande ricchezza è una grande ricchezza perché chiaramente ci sono esperienze punti di vista mentalità che possono essere diverse quindi può essere da un lato una difficoltà ma se si riesce a trovare la comunicazione la valorizzazione proprio con le cose che cercheremo di vedere anche nel seguito insomma del seminario come tu intuivi riusciamo a avere una grandissima ricchezza quindi sicuramente non ci sono preclusioni sappiamo che anche prima c'erano più le idee non so alcune cose devono fargli gli anziani i giovani i maschi e le femmine ora c'è l'idea che tutti possono fare tutto chiaramente con certe specificità però anche avere per esempio una comunicazione intergenerazionale può dare un grande apporto al funzionamento e fra l'altro è un modo anche per favorire uno sport fatto a tutti i livelli di età dai bambini piccolissimi ai anziani e sport maschili e femminili sono sempre meno differenziati e i tecnici possono essere tecnici maschili per le donne femminili per gli uomini e viceversa insomma non è bisogno per forza differenziare certamente però più c'è varietà più bisogna avere una grande capacità di organizzarci e di intuire con l'empatia con la carolistica di comunicazione il modo di riuscire a far dialogare chi magari può avere anche dei pregiudizi o delle differenze obiettive grazie chiarissimo grazie a te vai vai Giovanni grazie a te certo Giovanni chiaramente ora lo vedremo con la vostra analisi quali sono magari alcune cause di difficoltà in alcuni gruppi ci può essere questa anche un po' chiusura da parte di alcuni capi magari a valorizzare qualcuno perché si teme la leadership emergente oppure appunto a far leva su amicizie un po' particolari specifiche anziché valutare più obiettivamente indubbiamente ci sono anche qualche difetto un po' in italiano rispetto ad altri paesi però insomma anche poi negli altri paesi ci sono altri difetti ci sono problematiche nel gruppo non è che esistono soluzioni miracolose da nessuna parte e si tratta di non fare finta di niente ecco l'ho voluto dire subito perché a volte se no rischiamo di seguire un po' la retorica siamo il gruppo meraviglioso qui tutto funziona bene lo staff è l'optimum dobbiamo sapere che siamo il paradiso terrestre è stato ci hanno cacciato dal paradiso terrestre si tratta di trovare con tutti i difetti dell'essere umano un po' gli aggiustamenti per fortuna ci sono tante esperienze in cui il gruppo è piuttosto buono se non è perfetto trova delle buone soddisfazioni si crea magari per un periodo magari per aver ricreato una buona armonia ecco è questo che vogliamo creare sviluppare e capire meglio come governare ecco l'obiettivo di oggi che abbiamo già un po' intrapreso è avere strumenti in più per osservare avere una visione un po' distaccata lucida da fuori e al tempo stesso per poi entrare e svolgere il nostro ruolo naturalmente sarà un ruolo più forte se siamo proprio i coordinatori se siamo gli ultimi arrivati o qualcuno più esterno e più relativo però abbiamo sempre la possibilità di cercare di contribuire di parlare con qualcuno di partecipare a una riunione di far leva sulle nostre risorse per contribuire quindi è utile sempre se siamo abbastanza lucidi nella visione possiamo dare un po' di contributo alla creazione di questa abbiamo chiamato interdipendenza cooperazione buon funzionamento collettivo allora direi per rispettare un po' il programma ci diamo 10 minuti di coffee break di ricreazione di stretching diciamo riprendiamo qualche minuto prima di mezzogiorno va bene? ora sono le 11.43 sì 43 riprendiamo alle 57 per essere precisi facciamo un po' alla alla nordica con la precisione va bene? poi completiamo le esplicazioni e partiremo presto con l'esercitazione ma vi spiego tutto dopo a fra poco io abbasso rimango in linea ma abbasso microfono e webcam ok a dopo Guido grazie a tutti 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 grazie a tutti